Il Comitato Arete che sostiene le istanze dell'ospedale Barone Romeo di Patti ha segnalato ulteriore riduzione di personale all'interno della struttura sanitaria. Parliamo di personale di manutentori che dal 1 ottobre dovrebbero ridursi in maniera drastica. Ovviamente questo non può che rientrare, speriamo che non lo sia, nella situazione di depotenziamento dell'ospedale Barone Romeo. Problemi ancora che ci sono per quanto riguarda il reparto di ortopedia, si sollecita soprattutto il ruolo della politica perché faccia le opportune valutazioni e soprattutto perché dia respiro ad una struttura sanitaria importante di livello comprensoriale e anche regionale come il Barone Romeo. Oltre ad avere la carenza del personale per quanto riguarda i medici, anestesisti e infermieri, il problema è anche per loro che da 6 unità diventeranno 2. Noi abbiamo mandato al dottore Catalfamo una PEC in cui abbiamo chiesto informazioni, lui ci ha detto che comunque non è lui che se ne occupa ma il dirigente, il dottore Alagna. E quindi abbiamo ieri inviato una PEC al dottore Alagna in cui abbiamo fatto presente la situazione, contiamo nella sua risposta a Celere. Questa situazione della carenza di personale anche per quanto riguarda i manutentori, lei prima diceva medici, infermieri e anestesisti, rientra in quella situazione che voi spesso avete denunciato, il fatto del depauperamento del personale, del depotenziamento dell'ospedale? Sì, di fatto continua ad esserci questo problema nel senso che continuamente diminuisce il personale. Chiaramente chi rimane lì dentro ha le problematiche che è facile capire che due persone non possono fare come 6-8 persone. Quindi più che chiedere non riusciamo a fare perché di fatto tra il Covid e tutta una serie di problematiche non abbiamo delle risposte certe e non possiamo interfacciarci personalmente con loro. Però cerchiamo di essere sempre attenti e attivi rispetto a questa cosa tramite le PEC, tramite le telefonate, questo è quello che riusciamo a fare.